Gli amici della Pediatria di La Spezia, sempre al fianco dei bambini, delle persone che hanno bisogno e anche questa volta con una cena di beneficenza. Di cosa si tratta e quando ci sarà? È un compito che l'associazione si è assunta, uno dei tanti. Sono anni che l'associazione lavora in questo senso. Quest'ultima promozione sociale è una cena di beneficenza che cerca di riuscire a raccogliere fondi per sviluppare tre progetti nell'insieme, in simultanea. Sono il progetto Autismo per il dottor Giovannoni, referente della struttura semplice della neuropsichiatria infantile, cercando anche di poter inserire in azienda una nuova figura sanitaria, se vogliamo dire, un epilettologo, che è utile tanto in pediatria quanto in neuropsichiatria infantile. E dall'altra parte abbiamo la necessità di poter aiutare anche un'altra associazione Onlus, che è Orizzonte Malawi, il quale ha bisogno estremamente, un bisogno molto forte di farmaci salvavita, farmaci antimalarici. La cena di beneficenza che si terrà il 17 dicembre prossimo sarà anche un'occasione per favorire un importante progetto per il Malawi. Sì, speriamo di avere i fondi necessari per i farmaci, in particolare i farmaci per la malaria grave, quindi farmaci salvavita. Tenete conto che la malaria è la patologia più frequente in Malawi, nei bambini molto piccoli, sotto i 5 anni, la malaria è particolarmente grave. Con farmaci che non sono molto costosi noi possiamo salvare bambini, i quali con questa diagnosi morirebbero al 100%. La cena di beneficenza sarà anche un'occasione per raccogliere fondi per un importante progetto di screening del progetto Prima Pietra. Di cosa si tratta? Si tratta di un intervento sulle disturbi dello spettro autistico, per il quale abbiamo messo a punto l'intera filiera produttiva, diciamo, dai primissimi mesi di vita fino ai 18 anni, perché noi ci occupiamo di questa fascia d'età, con interventi cadenzati, ad esempio nell'adolescenza abbiamo aperto una struttura che è la Pontremoli, per consentire ai ragazzi di imparare a girare per il territorio con l'ausilio dei tablet, ad esempio, e prima lavori a tavolino con gli educatori, lavorare a girare per il territorio, saper prendere un bus per andare a scuola. Grazie a tutti.